Shabbat shalom a tutti e vi voglio dare il benvenuto oggi alla Parashah di questa settimana, questo fantastico Shabbat che io sto apprezzando di più ogni settimana che passa, perché quando possiamo lasciare indietro tutti gli stress della settimana, tutti gli appuntamenti, lavoro, tutte le altre cose, è proprio bello poter stare nella presenza di Hashem, di Yeshua e anche riposare la nostra mente, il nostro corpo, ma più che tutto il nostro spirito, la nostra anima nella presenza di Hashem, è proprio bello, meditare sulla sua parola. Oggi è la parashah che si chiama Ha'e Sarà che vuol dire la vita di Sara e parleremo di quando Hashem chiama. Nella porzione di oggi leggeremo da Genesi 23, versetto 1, fino al capitolo 25, versetto 18. La porzione profetica che si chiama l'Aftara si legge dal primo re, capitolo 1, versetto 1 a 31, che sarebbe il nuovo patto, nuovo testamento, si legge da Matteo 2, versetto 1 a 23 e anche Matteo 27, versetto 3 a 10. Luca 9, capitolo 9, versetto 57 a 62. Primo Pietro 3, versetto 1 a 7. Prima per iniziare voglio pregare. Quindi Abba Padre ti voglio veramente ringraziare per questo tempo che possiamo stare nella tua presenza e studiare la tua parola. Grazie per questa opportunità di imparare da te. Io ti chiedo di insegnare me e tutti coloro che ci ascoltano, che ci guardano oggi e che ci dai un cuore per imparare e mettere tutto ciò che noi impariamo in pratica e che tutto ciò che esca dalla mia bocca non dalla mia carne, ma che venga dal tuo Ruach HaKodesh, tuo Spirito Santo. Nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. Sono il rabbino Harel Clean Frye qui a Perugia, vi voglio dare il benvenuto oggi. Voglio innanzitutto, prima di iniziare, ringraziare tutti coloro che hanno pregato per me e per le mie guarigioni con i polmoni. Qui veramente è stato un attacco molto forte da parte di un amico, dove lui cerca sempre di fermarmi dal dichiarare la verità, ma io andrò avanti. Oggi mi sento fantastico, compronto la settimana scorsa, è stata una lotta. No, non era Covid, però c'è sempre un attacco sin da quando sono abbastanza giovane, che avevo 16 o 17 anni. Il nemico cerca di colpirmi lì. Quindi vi voglio ringraziare e veramente siete preziosi. Tutti voi che ci ascoltate, che ci guardate, vi apprezziamo tutti e vi vogliamo bene. Adesso vorrei iniziare questo tempo leggendo il primo versetto, Genesi 23-1. Sara ha vissuto, in ebraico Chaye, Sara, fino a 127 anni. Pensate un po'. Morì a Kiriat Arba, cioè a Hebrona, nel paese di Canaan, e Abramo andò a fare il lutto per Sara e a piangere per lei. Quindi è molto bello questo passaggio. e pensate lei ha vissuto 127 anni e poi andrò, dopo sappiamo che Abramo muore a 175 anni. La scorsa settimana, parisciò a Bayerà, Abramo ha intrattenuto degli angeli, tre di loro, uno di cui era Adonai, cioè proprio Yeshua, che gli sono parsi come uomini dopo aver ricevuto il patto della circoncisione. Uno degli angeli poi gli annunciò che Sara avrebbe dato alla luce a un figlio in un anno, cioè fra un anno di quel giorno. Nella parasha Chaye Sara, cioè la vita di Sara oggi, inizia con la morte di Sara alla zona di Kiriat Arba, che sarebbe Ebron. un posto molto particolare, un posto arabo, per la maggior parte, con una piccola zona per gli ebrei, c'è molta attenzione purtroppo, ma è molto incredibile come posto da vedere. Se andate a vedere le tombe dei nostri patriarchi e matriarchi, che sono enormi e da visitare. E quindi lei muore a 127 anni e termina poi con la morte di Abramo a 175 anni, questa parasha. Poi così le vite delle grandi matriarchi e patriarchi della nostra fede giungono alla loro fine, almeno qui sulla terra. Entrambi sono sepolti, come detto, nella grotta dei Machpalè, cioè la grotta dei patriarchi, che Abramo acquistò come luogo di sepoltura familiare dai figli di Het, per l'intero prezzo di 400 sicli d'argento, che di dunque era parecchio, anche se gli era stato offerto questo terreno gratuitamente. E sta scritto in Genesi 23, 6, ascoltaci, tu sei un potente principe tra di noi. Saprisci i tuoi morti nella migliore delle nostre tombe. Nessuno di noi ti rifiuterà la sua tomba per aver sapulito i tuoi morti. Ma lui compra la terra, il terreno. L'Aftarah di questa settimana, che sarebbe la lettura dei profeti, riparla del tema della fine di un anziano soprano di Israele, uno dei più grandi uomini di Hashem di tutti i tempi. L'uomo, secondo il cuore di Hashem, il re Davide. Sta scritto in primo re 1.1. Il re Davide è ormai vecchio, avanti negli anni, e sebbene lo coprissero con le coperte, non si sentiva mai caldo. E così, in questa porzione della parola di Hashem, ci confrontiamo con la natura transitoria della vita. Come sappiamo, passa molto veloce. Ho 53 anni, non sono anziano, ma ne sono un giovanotto. E mi rendo conto che ogni anno che passa, passa più velocemente dell'anno precedente. specialmente con fronte agli anni quando ero più giovane. Sembra che inizi un anno e già finisce. È incredibile. Pensate, più vecchio che diventiamo, ed è più così. Quindi, sebbene Hashem sia eterno e la sua parola è sempre, per sempre, la scrittura paragona la nostra essenza a un fiore o a un filo d'erba. Tutti gli uomini sono come l'erba. L'erba passisce e il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio Hashem durerà per sempre. Questo lo vediamo in Isaia 40, versetti 6 e 8. Possiamo anche vedere 1 Pietro 1, 24. Ci paragona anche a un vapore nel vento. Pensate, un vapore nel vento va così. che è qui oggi e se ne andrà domani. Forse stiamo parlando della nebbia, non lo so. Dice, c'è solo un vapore che appare per un po' e poi svanisce. Giacomo 4, 14. Quindi, è importante capire che noi non saremo qui per molto tempo, specialmente in confronto ai nostri matriarchi e patriarchi. Molto più tempo hanno vissuto. Noi, massimo 70, 80, se va bene 90, 100 anni, ma non di più. È molto raro. Chai e Isara ricorda a ciascuno di noi che il nostro breve tempo su questa terra finirà, come a tutti. Questo lo vediamo in Ecclesiasti 3, versetti 1 e 2, per esempio. Il Salmo 90, 12, sta scritto quindi insegnaci a contare i nostri giorni per ottenere un cuore di saggezza. Io questo lo prego per me, perché io ho bisogno di tanta saggezza. E tante volte, purtroppo, non ce l'ho, qualche volta sì. Vorrei dire che ce l'ho di più, ma devo dire la verità, spesso manco proprio in questo campo. Vabbè, pazienza, chiedo sempre, quindi so che me lo darà. Adesso vorrei parlare di morte e la vita eterna, oppure la morte eterna, perché sappiamo che quando moriamo o andiamo alla vita eterna o alla morte. Ma Hashem riscatterà la mia anima dal potere della tomba, perché mi accoglierà. Salmo 49, 15. In alcune Bibbie, invece di tomba, dice Sheol, che sarebbe la fossa, oppure l'inferno. Quindi non è solo la tomba da cui dobbiamo essere riscattati, ok? Forse così sappiamo che i nostri corpi un giorno risorgeranno, no? Quindi è solo quando affrontiamo la certezza della nostra morte fisica che possiamo essere comportati dalla verità per coloro che sono Gesù che il paradiso è la nostra vera casa. Meno male! È orribile per coloro che non credono, perché se vanno a fare un tormento perpetuo per tutta l'eternità, più di 10.000 gradi di fuoco, è orribile se ci pensate. Ma chi lo vuole questo? Quindi bisogna capire bene l'importanza di essere in Yeshua. Siamo semplicemente attraversando questo mondo caduto, orribile, violento, come pellegrini e stranieri, signori e signori. E mentre i nostri antenati mangiavano la manna nel deserto, ma morivano comunque, Yeshua, cioè Gesù, disse che era, lui era il pane che discende dal cielo, che chiunque può mangiare e non morire. Giovanni 6.50 Quindi se noi si proclamò coraggiosamente di essere in ebraico lechem chayim, cioè pane di vita, e lui promise che chiunque avesse mangiato questo pane sarebbe vissuto per sempre in Giovanni 6.58. E no, quando voi mangiate il pane nella chiesa o dove andate, non è il vero corpo di Yeshua, come tanti dicono, ok? Non è. È semplicemente un pezzo di pane che ci ricorda quello che lui ha fatto per noi. Basta. Anche il vino non diventa il suo sangue, ok? Tutti voi che pensate così, andate a rileggere la Bibbia. Lui ha detto solo, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, ma è per dire, ok? Non è veramente il suo corpo e il sangue. È un modo per ricordare ciò che lui ha fatto per noi. Niente di più, niente di meno. Quindi, proprio come la tomba non poteva contenere il figlio di Hashem, anche noi saremmo risuscitati a nuova vita in lui per l'eternità. Se uno va alla tomba, dove c'era soprattutto Yeshua, che è vicinissimo alla collina di Golgotha, qualche metro, è bello vedere che è vuota. Non c'è nessuno. È bellissimo. Quindi è una rivelazione gloriosa e molto liberatrice che la morte ha perso il suo pungiglione. Come sta scritto, ho morte dove è la tua vittoria, ho morte dove è il tuo pungiglione. In questo sta scritto in 1 Corinthians 15, 55. Tutti noi morremo prima o poi, tranne quelle che ce la faranno proprio alla fine, quando Yeshua torna per la sua sposa, chi è ancora vivo, non dovrà assaggiare la morte. Alla maggior parte morremo. Dobbiamo ricordarcelo, ma non dobbiamo avere paura. Ok? Non dobbiamo avere paura. Quelli che non lo conoscono devono avere paura. Questo mi ricorda recentemente, ieri proprio, ho saputo di un amico caro che frequentò la scuola americana a Firenze quando era giovane. morto il venerdì scorso dell'MS, multiple sclerosi, la mia età. E purtroppo non credo che lui sia stato salvato e mi rimpiange il cuore per quello che lui sarà passando adesso, almeno che io ho sempre pregato per lui quando io ho saputo che avevo questa malattia, che qualcuno gli potesse parlare e offrire la salvezza in Yeshua. Io non ebbi l'opportunità di andarlo a trovare a New York, ma spero, ho pregato, che qualcuno ci potesse andare e parlare con lui. Spero di trovarlo in cielo. Ed è questa la nostra speranza certa, cioè la nostra speranza e la nostra certezza della parola di Hashem che allontana da noi la paura della morte. Io avevo sempre paura della morte, anche fino a pochi anni fa, ma non della morte stesso, ma del dolore della morte. Ma io credo che tanti che sono in Yeshua quando avviene il tempo non si sente proprio nulla. Questo credo fermamente, quindi quella paura non c'è più. Una citazione da un film dà giustamente un'altra svolta alla morte. Non ho visto ancora tutto il film, però ho visto un pezzetto. Si chiama Attack Everlasting, vivere per sempre. E c'è un personaggio che incoraggia un altro dicendo non temere la morte, ma piuttosto temi la vita non vissuta. Pensate, temere la vita non vissuta, cioè che vuol dire? Per noi che siamo in Yeshua, se stiamo facendo la volontà del Signore, non dobbiamo temere nessuna vita non vissuta. Però tutti coloro che vivono e muoiono senza Yeshua, quando arrivano alla fine della loro vita, magari avranno ammassato tanta ricchezza, tante case, tante proprietà, tante cose, hanno vissuto una vita, hanno avuto tutto quello che avevano. Ma alla fine non hanno fatto nulla, non hanno vissuto nulla. Perché se non si vive per la gloria di Hashem, la gloria di Gesù, non si vive. E questo è triste. Muoiono una vita vuota. Nonostante le realtà della morte, o a causa di essa, dovremo abbracciare la vita e viverla pienamente. Come dicevo, però facendo la volontà del Signore, ok? Aggiungendo altri per il regno di Hashem. Dobbiamo farlo in modo significativo e con gioia al meglio della nostra capacità. Perché come fanno le persone a voler accettare Yeshua se ci vedono sempre triste, o arrabbiati, o preoccupati, o impauriti? Tanto dicono, vabbè, tanto tu sei come me, non voglio stare come te. Anzi, sto meglio io. Io vedo tanti così. Ed è brutto. Perché se non siamo gioiosi, come fanno a voler essere come noi e a voler conoscere Yeshua che noi conosciamo? È importante, ok? Anche lodare il Signore, ringraziare il Signore, anche nei tempi difficili. Tanto alla fine andiamo a stare con lui. Che ci interessa se stiamo qua e soffriamo? È un passaggio, ok? Solo un piccolo passaggio, in fronte all'eternità. Adesso vorrei parlare della sposa che esce fuori da Babilonia. C'è scritto in 1 Pietro 3-4, l'ornamento sempre splende di uno spirito gentile e tranquillo, che è di grande valore agli occhi di Hashem. In questa parasha Abramo si impegna a trovare una sposa adatta per suo figlio Israq, o Israq, manda la sua serva, anzi suo servo, scusate, un uomo, in missione per trovare la sposa tra i suoi parenti. In quell'epoca si faceva così. Era male che, diciamo, una figlia del fratello, magari, qualcuno che era un parente. Abramo fece giurare al suo servo per il Signore Dio del cielo e della terra che non avrebbe preso una sposa per Israq tra i Cananei, che erano stati maledetti da Noè. Potete vedere il parasha Noach un paio di settimane fa. Ed è molto importante questo. Andremo a parlarne un po' più in profondità fra poco. Il servo di Abramo trovò Rivka, che sarebbe ebraico per Rebecca, a Babilonia, che è Iraq, quella zona lì, di Stopotamia, nella città di Nahor, il luogo che Hashem aveva chiamato Abramo a lasciare. Lui doveva andare via da là, perché tempo prima. Pregò Hashem che la sposa di Isacco gli fosse rivelata, fornendo di acqua e anche di sua iniziativa, senza chiedere, acqua per i camelli. Quindi immaginate il tempo che lo sforzo necessario per attingere acqua dal pozzo per destitare dieci camelli più questi uomini. Parecchio, eh? Si deve mettere giù il secchio, poi tirarlo su. Non è che si aveva una pompa a mano, come magari si può trovare adesso, o meglio ancora, la pompa elettrica. Era parecchio lavoro. E' scritto in Proverbio 12-10. Un uomo giusto si prende cura dei bisogni del suo animale, ma gli atti più gentili dei malvaggi sono i crudelli. E questo mi ricordo una persona che conoscevo tempo fa che pensavo che fosse una persona buona, un amico, qualcuno che era in Yeshua, salvato. Ma quando sono stato a casa sua per parecchio tempo, tre mesi, vedi un altro lato. Questa persona è un lato molto violento, molto crudele ai suoi animali, che aveva i gatti e i cani come li trattava. Li trattava malissimo. E io sono rimasto male. Dicevo, ma come mai questa cosiddetta persona che dice che esso in Yeshua tratta così gli animali e parla così, pieno di parlacce, proprio pieno di odio e rancore. Come mai? E da lì mi sono allontanato e ho detto, non lo conosco questa persona. Quindi è molto importante vedere come le persone trattano non solo le persone, ma anche gli animali, ok? Una sposa si rivela attraverso la sua compassione e gentilezza, specialmente verso gli animali, i deboli, gli indifesi nella vita e dalla dirigenza e dalla volontà di fare il possibile, cioè fare tutto quello che può fare. La bellezza fisica esteriore di Rivka, o Rebecca, riflette la sua bellezza interiore e il suo carattere. Era una donna bellissima fuori, ma anche dentro, perché puoi essere la donna più bella o l'uomo più bella del mondo fisicamente. Ma se tu non hai niente dentro, il suo brutto e tratti male le persone, animali, quelle che volete, non c'è nessuna bellezza in te, non c'è, ok? Io vedo una persona così bruttissima e non voglio avere niente a che fare. E questo spirito gentile e tranquillo che prezioso agli occhi di Hashem, e questo vediamo in 1 Pietro 3 e 4. Quindi Rivka rivela anche che lei è quella per la sua volontà, vuole seguire il servo di Abramo fuori da Babilonia, in un territorio sconosciuto, per sposare questo Isacco, che non l'ha mai visto. Lei non sa se è bello, buono, brutto, se è magari buono o non buono. Le viene chiesto, andrai con quest'uomo? E lei risponde, sì, andrò. Pensate, questi giorni si vuole uscire, siamo fidanzati per chissà quanto tempo, ci vogliamo conoscere. Io penso una cosa importante, se volete conoscere veramente qualcuno, vedeteli nella loro vita, vedete che cosa fanno, quando non state uscendo che siete tutti dolci e buoni fra di voi, vedi la persona come lavora, vedi com'è durante l'inverno, l'estate, l'autunno, la primavera, come trattano gli altri. Spesso i credenti conoscono l'uno e l'altro in ambito della congregazione, ma stiamo attenti anche lì, perché possiamo anche incontrare qualcuno mandato da Satana. Satana va in chiesa proprio per fare inciampare i credenti, per farli intrappolare, ok? E' importante capire chi vogliamo sposare, però l'importante è anche pregare. La guida, il Qashem ci guida alla persona giusta. Solo lì possiamo stare tranquilli che noi siamo con quella persona che lui aveva per noi, ok? Molto importante. Vogliamo vedere com'è la persona. Dicono, si scherza che, ti dice, quando, se vuoi vedere una persona che stai per sposare, vedere com'è veramente, farli guidare nel traffico quando sta fermo per due ore. Sai, quando va piano piano, magari si sposta un metro ogni 15 minuti, come durante l'orario di ritorno da casa, per esempio, vedi come reagiscono, vedi come stanno quando c'è l'internet lentissimo. Ci sono tanti modi per vedere il vero carattere di una persona. Non per dire che non tutti noi ci possiamo frustrare ogni tanto, arrabbiare, però c'è modo in modo. Quindi Rebecca o Rivka non si pira indietro per la paura, ma lei è audace e coraggiosa. Questo è importante. Si importa di portare comporto agli altri con il suo amore e con il suo buon carattere. non solo per il servo di Abraham, ma per i suoi camelli. Ogni discepolo di Yeshua deve decidere nel proprio cuore se disposto o disposta a seguire il Messia e sottomettersi ad andare dove il Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, lo conduce ogni giorno. Ok? Lui può dire, vai in Africa. Molto facile dire, io vorrei essere un missionario, un missionario in Africa. Ok? Voglio vedere veramente che vai. E come agisci quando stai là? Perché è un conto vedere delle foto con i bambini carini, tutte le cose povere, le persone povere. È un altro conto stare lì e veramente vivere una cosa così. Può essere dovunque, eh? Può essere dovunque. Dovunque ti manda è lì dove vuole che tu sia. Quindi a volte, ma non a volte più, spesso sì che no, lo Spirito Santo ci porterà fuori dalla nostra zona di conforto. Il nostro conforto, insomma, quello che conosciamo, la nostra casa familiare, la città in cui siamo nati, il paese in cui siamo nati, eccetera, eccetera. E ci chiederà di seguirlo in un luogo che egli ci mostrerà. Ok? Non sempre vediamo l'intero piano o il quadro generale. Ok? Grande, grande, a big picture, come si dice in inglese. Questo può essere molto spaventoso. Ma ricordo, ricordatevi, noi non viaggiamo da soli quando siamo chiamati. Prima di tutto lui ci apre le porte, ma non soltanto quello ci dà la forza e il coraggio di farlo. Hashem promette di essere con noi, ovunque andiamo. E questo è un conforto per me. Qualche volta mi chiedi di fare cose che io non voglio fare. Magari dico, mamma mia, ma chi me lo fa fare? Ma alla fine, quando lo vado a fare, vedo tante belle cose. Egli ci sostiene, non ci lascerà, né ci abbandonarà mai. Ok? Dobbiamo sforzarci di incarnare la diligenza di Rebecca, di Rivka, il cuore del servo, la bellezza, la purezza, la disponibilità, la gentilezza, il coraggio e la fede innanzitutto. Senza la fede tutti gli altri non sono possibili per essere la sposa del Messia che il Signore sta aspettando. Ok? Quindi vorrei parlare di vite che contano. Ma che contano per che cosa? Per il regno di Hashem. Nell'Ecclesiastes 7-8 sta scritto che la fine di una questione è migliore del suo inizio. Quindi la fine di un tempo magari è migliore del suo inizio. Per il popolo ebraico il giorno della morte è più significativo del giorno della nascita. Ok? Statemi a sentire, ricordiamo l'anniversario della morte di una persona cara, magari con una candela accesa e preghiere speciali recitati sulla santità di Hashem chiamato Kadish. Notate che io non ho detto pregare alle persone morte, che è vietato nella Bibbia. Mentre Kadish è molto comunemente chiamato la preghiera del luto, non è la preghiera del luto veramente. Le parole non guardano in realtà la morte della persona o il luto, che invece sono una proclamazione pubblica della grandezza e la gloria di Hashem, del nostro Dio, che è bellissimo. Anche nell'angoscia della perdita di una persona cara, possiamo levarci al di sopra delle nostre circostanze offrendo lodi ad Hashem per quello che è. Ok? Io, per esempio, ho perso mio fratello nel 99. Io posso ricordare sia la sua nascita, anche se non mi ricordo niente perché ero piccolo, però mi posso ricordare la sua vita. E magari ogni maggio, quando lo so che lui è morto, lo so, io non faccio, non accendo candele, però mi ricordo di lui. E come era una bella persona, un bel fratello, un buon amico e mi manca, meno male che ci vedremo nel regno di Dio insieme. Lui sarà completamente guarito dal danno al cervello che ha avuto da un incidente in macchina. Quindi è bello fare questo Kadish per coloro che noi, che sono stati nella nostra vita e che non sono più qui. Quando noi nasciamo, tutta la nostra vita è davanti a noi, come una pagina bianca o tante pagine bianche in un libro. Quando moriamo, la storia della nostra vita è stata scritta e giunge alla sua conclusione, almeno qui sulla Terra. Alla morte vediamo se le nostre vite hanno contattato qualcosa, contatto qualcosa. Quindi è interessante rendersi conto che mentre conosciamo il momento della morte, per esempio di Yeshua, e ce lo ricordiamo ogni anno, si chiama Pesach o Pasqua ebraica. Non la Pasqua della Chiesa, perché quella non sempre coincide, anche se uno vuole usare quel tempo di ricordarselo. E proprio durante Pesach, la Pasqua ebraica, che è proprio biblicamente la data giusta, lui è morto questo giorno. Non possiamo essere sicuri del momento, invece, della nascita di Yeshua. Questo problema è stato fonte di alcune controverse. Mentre la maggior parte, per esempio, dei cristiani celebrano la nascita di Yeshua, cioè Gesù, il 25 dicembre, molti studiosi della Bibbia collocano il momento della nascita di Yeshua in autunno, probabilmente durante la festa di Sukkot, la festa di Tabernacoli. Perché, prima di tutto, non si viaggerebbe molto durante dicembre, perché fa molto freddo anche a Gerusalemme dove può nevicare. E Bethlehem sta accanto a Gerusalemme, ok? Lo puoi vedere da sopra. Non è tempo di viaggiare e fare quello che dovevano fare per il censimento. Invece, durante la fine di settembre, durante il mese di settembre che ci sarà voluto viaggiare, fa bel tempo né troppo caldo né troppo freddo. Si sta bene. E poi, se uno pensa, lui è morto a 33 anni e mezzo. Quindi, se lui è morto a 33 anni e mezzo, a tempo della Pesach, vorrà dire che nacque sei mesi prima, nell'autunno. Ha senso, no? Quindi, ovviamente la Bibbia non ne parla di esattamente il giorno che lui nacque, perché per qualche ragione Hashem non avrà pensato che sia importante. Importante che è nato. Ma più importante, quello che veramente dobbiamo ricordare, non è il fatto che lui è nato, perché sappiamo che è nato, ma che è morto, è risorto per i nostri peccati. Quella è la cosa più importante da ricordare. Ed è biblico, ok? Quindi vorrei parlare, parlando di quello, cosa vuol dire lasciare un'eredità? E non dico un'eredità, questa casa, i mobili, tutte le cose dentro. Ok? Sono cose che brinceranno prima o poi. Dice Neffesini 5, versetti 5 a 16, vedremo un versetto. Guarda bene dunque come cammini, non da stotto, ma da saggio, facendo il migliore uso del tempo, perché i giorni sono cattivi, sono maligni. Noi sappiamo che come andrà a finire negli ultimi tempi, come sta scritto nella Bibbia, sarà peggio dei tempi di Noè. Pensa un po', peggio dei tempi di Noè. Nei tempi di Noè, prima dell'alluvione, fu brutto. Non è che solo sì c'era tanto violenza e tanto peccato sessuale e sacrifici umani, ma si mangiavano gli esseri umani, l'uno e l'altro. Ok? Gli esseri umani mangiavano gli animali mentre ancora vivi, cioè toglievano parte dell'animale, la gamba, una parte, e se le mangiavano senza uccidere l'animale. E sta scritto, perché più tardi Hashem dice non mangerete da un animale mentre ancora vivo, vuol dire che l'hanno fatto. Oltretutto, soprattutto c'erano i giganti che erano alti, non quattro metri come magari Golia, ma venti, trenta metri circa, perché molto alti. Hanno trovato i resti di queste persone e i giganti mangiavano gli esseri umani. Sta scritto nel libro di Enoch. Poi che non l'avete letto vi suggerisco di leggerlo. Lo sto leggendo adesso e fu parte della Bibbia una volta, prima che è venuto tolto da chissà chi. Ed è incredibile. Quindi andremo a lì, come era a quel tempo, anche peggio durante gli ultimi sette anni su questa terra, prima che ritorna Yeshua. E sì, i credenti saranno qui almeno per una parte di questo tempo. Adesso vorrei parlare della ditta di Abramo e Sara, che esemplificava l'amore e la devozione per Hashem, quello che siamo chiamati a fare noi. L'uno per l'altro, per il prossimo, perché hanno accolto gli angeli che non sapevano, non li conoscevano. La vita del re Davide, per esempio, ha esemplificato l'amore di Hashem. L'ambizione sottomesta e molto altro ancora. La storia della scomparsa di Sara, Abramo e il re Davide dovrebbero indurci a considerare attentamente le nostre vite. Come lo stiamo vivendo la nostra vita? Per noi stessi? Per la nostra famiglia? Quella che volete? O stiamo vivendo la vita per lui? Cosa lasceremo in eredità? Ognuno di noi vuole sapere che in qualche modo abbiamo fatto una differenza e che la nostra vita ha contatto per qualcosa di positivo e buono. Io voglio sapere, quando io muoio, chi ha portato con me nel regno di Dio? Chi ha voluto accettare Yahshua come Messia per la mia vita, perché hanno visto la mia vita? Io lo prego sempre al Signore che almeno delle persone che hanno voluto venire al suo regno e conoscere Yahshua perché hanno visto la mia vita. Io lo prego ogni giorno. Tuttavia troppo spesso siamo così presi dalla miriade di preoccupazioni e della vita quotidiana e di altri problemi che non riusciamo a riflettere se stiamo adempiendo il nostro destino dato da Hashem. E lui ha dato un destino a noi. Stiamo vivendo intenzionalmente e con uno scopo o stiamo vivendo un po' così? Un po' così. La vita non è una prova generale, Signore e Signori. Dovremmo sfruttare al meglio il dono della vita ogni singolo giorno. Quando ci alziamo la mattina, io prego, Signore, fa che sia fatta la tua volontà nella mia vita, come nei cieli, proprio come la preghiera del Padre. Fa che sia fatta la tua volontà. Non dobbiamo nemmeno mancare di avere equilibrio però. Alcuni di noi vivono vite vuote e insoddisfacenti, senza direzione o concentrazione. Mancano completamente di abbiempire il destino che Hashem ci ha dato. Altri sono così orientati all'obiettivo e alla realizzazione che mancano di ciò che è veramente più importante. Amare Hashem e amare le persone. Tu puoi avere il lavoro più bello del mondo, fare il più soldi possibile e prendere cura della tua famiglia. Se non ci stai mai però per stare là con loro, per loro, non conta nulla. Se le tue ricchezze le usi solo per te stesso o per la tua famiglia e per nessun altro, né per benedire altri, guarda che tutto brucerà davanti al trono di Hashem nel fuoco. Non fa nulla tutto quello che uno fa su questa terra se non è secondo la volontà di Hashem per te. Qualunque cosa che facciamo durante la nostra vita possa portare onore e gloria ad Hashem e al suo regno. Soprattutto portare persone. Adesso vorrei tornare indietro un po' e vorrei andare un po' più in conclusione. Che cosa sono i Cananei e che cosa sono oggi? Perché prima parlavamo dei Cananei e il fatto che Abramo non voleva che Isacco si sposasse con una Cananea. Perché? Oggi come sono questi Cananei? Avramo avvertì Eliezer di non cercare una sposa per Isacco tra le donne Cananei. Abramo sapeva che i Cananei erano destinati ad essere, come vi ho detto, espulsi dalla terra e cancellati dalla storia. Ci sono ancora i Cananei sopravvissuti, ma la maggior parte sono morti. Lui non riteneva prudente che il suo seme, al quale Hashem aveva promesso la terra, promessa Israele, si sposasse con una razza, la quale doveva essere tolta dalla terra. Ok? Immagino il ragionamento di Abramo, dice, mio figlio è benedetto e il maledetto non può unirsi ai benedetti. C'è anche un versetto, un passo nella Bibbia, nel Brekharashah, nel Nuovo Testamento, Nuovo Patto che è parte di questo, tra poco lo diremo. Quindi nel mondo di oggi non ci sono i cosiddetti Cananei, ok? Non hanno cessato di essere un gruppo di persone identificabili molto tempo fa. Come vi ho detto ci sono i sopravvissuti, ma si chiamano un'altra cosa. Tuttavia l'avvertimento ha ancora rilevanza per i nostri sforzi di sensibilizzazione oggi. La religione cananea divenne un veleno tossico per figli di Israele, seducendoli all'idolatria e tante altre cose, ok? Anche sacrifici dei loro figli, eccetera, eccetera. Un po' mi ricorda quando le persone si dicono cristiane e poi pregano alla Madonna o ai Santi o ad altre cose. O se fanno questa cosa strana per quando vanno davanti ad un edificio, una chiesa o davanti alle tombe. Non è nel cimitero, insomma. Non è buono e questo non fa vedere che abbiamo fede in Yeshua soltanto e nel Padre. che poi lui dice io sono l'unico intercessore tra voi e il Padre. Non c'è un'altra persona. Non c'è. La Madonna non vi sente. Anche se vi sente non è buono perché la Madonna è semplicemente Satana, come vi ho detto tante volte, ok? La regina dei Cieli. Chi è? Satana. State pregando a Satana. Se pregate ai Santi, non vi sentono i Santi. Però state parlando ai vecchi dei romani, i greci e altre persone che non vi possono sentire. Pregare ai morti è probito nella Bibbia. Quindi questo è come erano i Cananei pure. Allo stesso tempo non dobbiamo portare la religione, per dire, di Canan, dei Cananei, nella casa di Abramo o nel corpo di Yeshua. Nel nostro zelo di raggiungere le persone per Yeshua non dobbiamo permettere al mondo idolatra di esercitare la sua influenza sull'assemblea del corpo di Messia Yeshua. Ok? E lo sto vedendo molto più spesso nella cosiddetta chiesa o corpo Yeshua dove stanno accettando tutto e tutto. Va bene, dai, vieni che tu sei omosessuale. È buono accettare l'omosessuale. Vogliamo che vengano alla salvezza. Ma non dire che va bene il loro peccato e va bene tanto Yeshua, Gesù, ti amo così come sei e tu sarai accettato. No. Vuol dire che dobbiamo raggiungerli con la verità. Sto vedendo molto più spesso il peccato sessuale in generale, non solo quello, nel corpo Yeshua, il cosiddetto corpo Yeshua. Ok? Non va bene. Poi sta scritto anche riguardo legarci con non credenti. nel secondo Corinzi capitolo 6 versetti 14 e 16. Non essere legato insieme ai non credenti perché quale compagnia ha la giustizia e le legalità? O quale compagnia ha la luce con le tenebre? Che cosa ha in comune un credente con un non credente? Ok? Accordo al tempio di Dio, di Hashem, con gli idoli. Perché noi siamo il tempio di Dio, del Dio vivente. Allora non vuol dire che magari chi ha sposato qualcuno che non era credente magari non era credente stesso a quell'epoca, a quel tempo, poi è diventato credente. No, non sto parlando di quello. Magari hai sposato, ti sei sposato, ho sposato con qualcuno che magari pensavo fosse credente, poi vivendo la vita insieme ti sei reso conto che non è così. Può succedere. Io suggerisco, come vi ho detto prima, se conoscete qualcuno nella tua congregazione, vedi bene, pregate prima di sposarvi che sia la persona giusta. Anche prima di conoscere qualcuno, pregate per il futuro sposo o sposa. E' importante. Dobbiamo stare attenti con chi ci leghiamo. Dall'altra parte, un discepolo di Gesù non dovrebbe esitare a raggiungere gli empi. Non dico sposarsi, a raggiungerli gli empi, i malbagi secolari o gli idolatri. Il potere trasformante del Vangelo non è limitato ai confini etnici o sociologici, ma la buona novella insegnata dal nostro Messia può trasformare anche l'idolatra più riprovevole in una degna sposa spirituale e santificata. Anche una persona che ha ucciso. Tante persone stanno sulla, magari nel ricasso, qui in Italia perché non c'è la pena di morte, ma in America, in altri paesi, poi dipende dallo Stato, ci sono persone messi sulla, come si dice, death. Stanno aspettando la morte, deve essere messi a morte, ma parecchi di loro, mentre stanno dentro, hanno, si sono resi conto di quello che hanno fatto, hanno dato la loro vita a Gesù e quindi possono morire con la conoscenza pulita. Stato, come fu per il ladro sulla croce accanto a Gesù. Tanto tutti noi abbiamo peccato, in un modo o l'altro. Il mio peccato non è più bello di quello che ha ucciso qualcuno, ok? Neanche tu, quindi non starla a giudicare perché quello ha ucciso qualcuno, tu no. Ha scritto, chiunque ha rotto una delle dieci leggi, dei dieci comandamenti, condannato per l'eternità, se non si accetta Gesù e il suo sacrificio sulla croce per noi. E ricordiamocelo, nessuno è esente da questa cosa. Sta scritto nel Fisini 5, versetti 26 e 27, dal lavacro dell'acqua con la parola, affinché si presenti la Chiesa in tutta la sua gloria, senza macchia, né ruga, né qualsiasi cosa del genere, ma che fosse santa e riprensibile. I discepoli di Gesù avevano bisogno di imparare questa lezione prima di poter essere appostoli efficaci. I due episodi del Nuovo Testamento illustrano questa questione. La storia dell'incontro di Gesù con la Samaritana in Giovanni IV è la storia dell'incontro di Pietro con il centurione Cornelio in Atti X. La storia dell'incontro del maestro con la Samaritana in Giovanni IV ricorda ai lettori che in quei tempi i giudei non avevano rapporti con i Samaritani. Giovanni IV, IX. Il popolo ebraico dell'epoca considerava i Samaritani l'equivalente dei Canonei, ma il maestro mise da parte i pregiudizi convenzionali e intraprese una conversazione con la donna Samaritana. Il suo esempio ha aperto la strada ai suoi discepoli per presentare il Vangelo al popolo samaritano. Se non lo avesse fatto, non potevano avere la salvezza. La storia di Pietro e Cornelio ha aperto ancora di più la portata del messaggio evangelico. Pietro stesso considerava i gentili a di fuori della portata della redenzione di Hashem. Lui li considerava i Canonei, per così dire, in quanto non aveva mai immaginato di portare il messaggio del Vangelo direttamente ai non ebrei. Lui ha affronteso la commissione di Yeshua di andare a tutte le nazioni come riferimento al popolo ebraico e si converte a giudaismo disperso tra le nazioni. Ma la visione del lenzuolo calato dal cielo ha riorientato il pensiero di Pietro e il Vangelo è sufficiente per salvare tutti, ebrei e gentili. Chiunque non sia salvato adesso, ebreo, ebrea, gentile, mi voglio invitare adesso di accettare Yeshua come il tuo Mosheach, il tuo Messia. E anche confessare il fatto che sia peccatore o peccatrice. Tutti noi abbiamo fatto. È importante prima che uno va all'aldilà, prima di partire da questa terra, se no è troppo tardi. E' importante perché io voglio vedere che chiunque ascolti questo messaggio abbia l'opportunità di accettare Yeshua come il suo Mosheach, Messia, come il suo Salvatore personale. Come sta scritto, come ho detto prima, Giovanni 3,16. Chiunque crede in Lui sarà salvato. Non dice altro. Ok? Quindi vi invito a pregare insieme a me questa preghiera. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Natan Nanu et Terech a Yeshua B'Meshiah. Yeshua. In italiano semplicemente, Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, re dell'universo che ci ha dato la via della salvezza di Yeshua e Messia. Se avete commenti da fare, vi invito a fare commenti sotto. Se volete ci potete contattare, c'è un link per contattarci magari con delle domande più pesanti, più profonde. vi risponderemo di sicuro e se siete stati benedetti da questo messaggio, dal nostro ministero, vi invito anche giù in fondo proprio, c'è un link per darci il sostegno. Se non avete Paypal, ci sono anche altri modi, basta chiederci, ci sarà anche un modo per fare il bonifico. Non chiediamo nulla. Ok? Non chiediamo nulla. Solo se ve lo sentite nel vostro cuore. Di darci una mano è molto importante per portare avanti il ministero che Hashem ci ha affidato. Se no, c'è anche sotto un link per chi ha bisogno di counseling, per aiuto su magari problemi passati o anche adesso che uno sta passando. Si chiama Mahasei Shidikfa, offerta dalla Rebbe Zingabriella, c'è il link per quello. Lei è una counselor esperta, autorizzata qui in Italia e ha le licenze e tutto. Quindi lei può offrire tutto il sostegno di cui avete bisogno, basato sempre sui principi biblici. Ok? Quindi vi voglio bene, vi amo nel nome di Yeshua. Grazie di averci ascoltato oggi. E voglio chiudere questo tempo con la benedizione di Arone. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Shabbat shalom a tutti quanti e ci sentiamo la prossima settimana.